un cordiale saluto In Abruzzo si prospetta un'altra giornata molto umida e calda ovunque da mattina a sera, massime attorno ai 32-33 gradi ma con elevati tassi di umidità relativa soprattutto sulle coste dove il caldo sarà molto foso e fastidioso sia di giorno che di sera, minime comprese tra i 19 e 26 gradi. Il mare sarà nel complesso quasi calmo o increspato e il vento molto debole di brezza. Con questo concluso ci rivediamo nel prossimo appuntamento sempre qui su TV6.